La Bibbia dice... La Bibbia dice che Barbie si è rotolata nel fango ed è diventata Gesù Cristo. Posso sentire l'odore del peccato. Un uomo è stato investito da un'auto. Un uomo? Ti prego, signore, dammi il potere di... Not today, Satan. Il mio ragazzo è morto, per cui probabilmente è ancora vivo. Per me è ancora in circolazione. Quello che vi proponiamo in queste puntate è un viaggio che va in retro, Satan. Penny, 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 Penny. Signore, mi dia la droga, la prego. Sei un drogato, però. Non esagerare, razza di idiota. Palma è una lucciola! Mi sento veramente euforico. Oh, il grande capo. Il grande capo. Era veramente il mega presidente galattico in persona. Mi casa. Mammi, mammi, mammi. Ragazzi, siete davvero mezzi. Tramp altissimo. Stai avendo una brutta allucinazione. Stai avendo una brutta allucinazione. Posso avere indietro le mie emorroidi, per favore? Guarda, c'è una mucca. Una mucca! Mucca! Se io avessi uno yacht, potrei comprarmi un Penny. Dentro di voi risiede uno spirito demoniaco. Senti, Ron, Ron. Io sono uscita con una mucca. Ron. Ron è finita. Ron. 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 Ron è finita. Voglio chiudere con te. Ron. 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 Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoppata. Don't let your kids watch it! Ron. Ron è finita. Ron. 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 Ron.